Tutti conosciamo il primo dei comandamenti, e cioè amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza, e poi il secondo amerai il tuo prossimo come te stesso. E vediamo come in questo dialogo che il Vangelo di Marco ci porta tra Gesù e lo scriba. Lo scriba in fondo ripete quanto Gesù ha detto e poi alle fine Gesù gli dice non sei lontano dal regno di Dio. Cosa lo scriba dice per meritarsi questa affermazione di Gesù? Ecco c'è una frase che lo scriba aggiunge e dice questo vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Chi è lo scriba? Lo scriba è un uomo di Dio, lo scriba è un osservante della religione, uno per cui giustamente gli olocausti, i sacrifici, tutto l'apparato religioso è molto importante, fa pienamente parte della sua fede. Lui cosa fa in fondo? Dinanzi a questa parola che Gesù le dona, lui si mette in discussione. Lui in fondo non fa nient'altro che mettere in discussione la sua struttura, la sua personalità, cioè percepisce che qui c'è qualcosa di molto più grande. Quante volte noi anziché farci mettere in discussione dalla parola, ci serviamo della parola per mettere in discussione gli altri. Quante volte noi siamo così aperti all'accoglienza di una novità del Vangelo che richiama il nostro cuore a ciò che è più essenziale, che è l'amore. Ed è in forza di quest'amore che Paolo rivolge ancora una volta parole forte al suo figlio Timoteo dicendo, non ti preoccupare se è vero che le catene mi hanno imprigionato, le catene non potranno mai imprigionare il Vangelo, l'annuncio. Il Signore ci doni a ciascuno di noi di entrare nel cuore vero dell'annuncio evangelico. Buon amizio.